Ha deciso di continuare a lavorare gratuitamente ancora per qualche mese nonostante avesse raggiunto la pensione. È la storia di una dipendente del comune di Andria. Marilana Pastore l'ha incontrata. Vediamo. Spirito di servizio e responsabilità verso l'ente. Solo questo ha spinto Maria Giancaspro, 67enne di Molfetta, dipendente in pensione dallo scorso ottobre del comune di Andria, che ha deciso di prestare ancora il suo lavoro per altri tre mesi gratuitamente a favore dell'ufficio del segretario comunale. Un termine che può essere prorogato. L'ente ha difficoltà nel reperire un dipendente che possa sostituirla e rappresentando lei un po' la memoria storica del comune di Andria, visto che ci ha lavorato interrottamente da ben 32 anni, Maria Giancaspro non ci ha pensato due volte. Un'encomiabile dedizione al lavoro perché ci dice è come stare a casa. È stata una decisione quasi anche voluta, poiché essendo io di Molfetta e quindi sono stata praticamente io al comune di Andria sono stata adottata dal comune di Andria, come io ho adottato il comune di Andria. Sono consapevole delle difficoltà che in questo momento il comune di Andria ha nel reperire nuovi impiegati, eccetera. Quindi mi hanno chiesto gentilmente la collaborazione perché io porto avanti comunque un settore abbastanza importante anche collaborando con la segretaria e ho accettato tutto qua. L'ho fatto volentieri. Senti il peso di questa responsabilità? No, sono contenta, sono orgogliosa. È l'infa per me, il lavoro per me è l'infa. Lì è stata per tanti anni, tutto il suo tempo lavorativo l'ha trascorso praticamente qui a Palazzo di Città, non ha mai avuto né chiesto trasferimenti, è stata sempre nel suo stesso ufficio, quindi un po' è la memoria storica di questo ufficio. Adesso bisognerà trovare un suo sostituto, forse questa è la difficoltà. Sì, forse anche questa è la difficoltà, però comunque sono sempre stata in quell'ufficio, sempre tanti anni, mi sono trovata benissimo e spero di aver dato il possibile, se posso ancora dare qualcosa in più, volentieri faccio. Non l'è pesato questo sacrificio? Ma no, sinceramente no, insomma, a volte forse magari uno ci pensa, ma sì, però lo faccio volentieri, lo faccio proprio veramente come spirito altruista, insomma, proprio per aiutare la situazione che sta. Speriamo di trovare qualcuno, cioè sicuramente qualcuno si troverà che mi sostituirà, sicuramente. Fino a che non si trova, va bene così.